Ciao a tutti, eccovi a questa ripresa di lavori dopo la pausa pranzo. Passo la pausa a Stefano. Stefano, mi senti? Mi stai sentendo? Sì, ora sì. Ok, perfetto. Dicevo, benvenuti a tutti, benvenuti a Azure Day 2022 e spero che dopo la pausa pranzo siete pronti a ripartire. In questa sessione vedremo come gestire la telemetria legata a applicazioni o state su Azure, quindi in cloud. E in particolar modo vedremo un'applicazione reale, cosa si può fare su un'applicazione reale e che tecnologie possiamo usare per sfruttare al meglio la telemetria e quindi fare in modo che ci sia la telemetria direttamente a raggiungerci e non noi a dover andare a investigare all'interno, dietro le quinte di ciò che avviene in un tenant. Per quanto, innanzitutto prima di iniziare alcuni contatti relativi a me, io sono un MVP che lavora particolarmente nel mondo Azure e Dynamics 365, qua potete trovare i miei contatti nel caso abbiate necessità di domande o chiarimenti post-sessione. L'agenda di oggi vuole focalizzarsi in particolar modo su tre temi, quindi una breve overview di cosa vuol dire monitorare le risorse su Azure e quali sono gli strumenti che la piattaforma ci mette a disposizione. E poi andremo direttamente a vedere nel vivo, quindi nel pratico, cosa vuol dire questa cosa. Quindi vedremo un'applicazione in Azure, cosa si può fare per monitorarla utilizzando Azure Monitor e andremo a vedere, infine, cosa si può fare e mettere in piedi gli strumenti che possiamo mettere in piedi per avere direttamente la telemetria all'interno, per esempio, della nostra inbox. Quindi la telemetria che raggiunge noi e non noi ad andare a investigare la telemetria. Innanzitutto, intronociamo cos'è Azure Monitor e perché è importante monitorare le risorse in cloud. Sicuramente se una risorsa è ostata in cloud è fondamentale andare a capire la salute dell'applicazione, le performance, se ci sono problemi, eccetera. E la piattaforma Azure ci mette a disposizione uno strumento, una famiglia di strumenti meglio, chiamata Azure Monitor, che ci permette di andare a gestire il monitor ai 360 gradi di un servizio stato in cloud. Quindi di andare a verificare le metriche, l'attività che questo servizio sta facendo, se sta performando bene o male, andare a vedere i logging, se ci sono exceptions o cose del genere. Azure Monitor è uno strumento, quindi ci permette di avere una soluzione out of the box, che ci permette di raccogliere per noi tutto un insieme di dati della nostra servizio o applicazione che sta girando in cloud. E oltre a raccogliere questi dati in automatico, ci permette anche, ci fornisce gli strumenti per andare ad analizzare questi dati a seconda, chiaramente, dell'ambito che poi vogliamo andare a focalizzare, su cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione. A grandi linee, Azure Monitor, come è strutturato? Abbiamo innanzitutto le sorgenti dati, quindi quali sono le sorgenti dati che forniscono dati a Azure Monitor. Sono sicuramente servizi che girano in Azure. Innanzitutto la piattaforma, diciamo a strati, la piattaforma stessa è nativamente integrata in Azure Monitor, quindi direttamente la piattaforma Azure fornisce telemetria a Azure Monitor. L'infrastruttura fornisce telemetria a Azure Monitor, quindi possiamo andare a analizzare tutto ciò che avviene a livello di infrastruttura o stati cloud. I servizi cloud che abbiamo forniscono telemetria a Azure Monitor, quindi i nostri workload che girano su Azure, possono tranquillamente essere integrati con Azure Monitor e fornire tutta una serie di dettagli che vogliamo andare a monitorare. E in Azure Monitor possiamo anche andare a monitorare sorgenti custom, quindi che vuol dire applicazioni o servizi che noi gestiamo, sia in cloud che non, potrebbero ridiriggere la loro telemetria a Azure Monitor, e quindi noi potremmo sfruttare tutte le funzionalità di Azure Monitor per andare a monitorare le nostre applicazioni custom, sia che queste girino in Azure ma anche volendo applicazioni che non per forza di cosa devono girare in cloud. Una volta che abbiamo queste sorgenti dati, Azure Monitor ha una piattaforma dati all'interno del quale vengono raccolti i segnali che arrivano da le nostre applicazioni e questi segnali in particolar modo si dividono in tre macro-categorie che sono le metriche, i log e i trace. Questi segnali, che poi andremo a vedere nel dettaglio, a sua volta possono poi essere analizzati e Azure Monitor ci permette di integrarci con quelli che sono i segnali all'interno di Azure Monitor a diversi tipi di livelli, quindi possiamo innanzitutto andare a analizzare i nostri dati, quindi abbiamo strumenti per andare ad analizzare cosa è avvenuto, cosa sta facendo la nostra applicazione in cloud e li vedremo dopo nel dettaglio. Abbiamo strumenti per visualizzare i nostri dati, che vuol dire la possibilità per esempio di fornire dei truscotti ad alto livello, grafici o non grafici, che ci permettono di andare a capire cosa sta succedendo all'interno di una nostra applicazione cloud e da lì puoi magari partire a investigare il problema. Abbiamo una serie di servizi che ci permettono di andare a investigare cosa succede all'interno di un'applicazione cloud a diversi livelli e poi abbiamo anche la possibilità molto interessante di cui parleremo dopo, anche di andare a integrarci con i segnali di Azure Monitor, quindi non solo andare a far l'analisi dei dati e vedere cosa sta successo all'interno delle nostre applicazioni, ma anche di reagire a quello che sta succedendo nelle nostre applicazioni, quindi di essere informati, esistono gli alert o cose del genere e la possibilità anche di sfruttare i segnali di Azure Monitor per andare a creare magari workflow o applicazioni custom che si integrano con i segnali di Azure Monitor e magari fanno azioni e di questo parleremo anche nella parte più pratica più tardi. Abbiamo detto che tutti i dati che vengono raccolti da Azure Monitor entrano in una base dati e in questa base dati abbiamo due famiglie principali di tipologie di dato che ho raccolto, le metriche che sono essenzialmente dei dati numerici che vanno a descrivere alcuni aspetti della nostra applicazione da monitorare e i log. I log sono invece set di informazioni organizzati a record che possono contenere tutta una serie di dettagli più o meno ricchi a seconda chiaramente del tipo di segnale o di applicazione. I log sono caratterizzati appunto da essere in formato record, di avere tutta una serie di proprietà che possiamo andare a realizzare, esplodere e all'interno dei log esistono strumenti forniti da Azure Monitor per andare a fare vere e proprie analisi del dato in profondità, quindi delle vere query e delle vere e proprie indagini all'interno di Azure Monitor. La parte di log è molto interessante perché oltre a avere la piattaforma Azure è sul fornire log nativi. Noi possiamo anche andare a creare le nostre applicazioni, integrare le nostre applicazioni e quindi creare dei custom log, quindi segnali custom che verranno raccolti all'interno della piattaforma di log di Azure Monitor, a quale ogni segnale possiamo attaccare tutta una serie di dettagli a seconda del segnale e su questo poi possiamo andare a fare analisi, statistiche e chi prima che ne metta. Quindi molto importante e interessante questa parte. Azure Monitor è nativo per ogni applicazione Azure, quindi al momento in cui voi attivate una subscription in Azure e iniziate ad aggiungere le prime risorse all'interno della subscription Azure, risorse che possono essere di diverso tipo, dalle virtual machine alle applicazioni web, servizi serverless, eccetera. Dal momento in cui voi attivate un primo servizio, Azure Monitor inizia a raccogliere dati relativamente ai servizi che voi avete attivato all'interno della vostra subscription. I dati raccolti da Azure Monitor possono successivamente, sono raccolti come abbiamo visto prima, come abbiamo descritto prima, e a questo punto poi possono essere analizzati più o in profondità con strumenti di svariato tipo, ed è possibile in Azure Monitor andare a fare delle vere e proprie query all'interno del dato. Azure Monitor fornisce uno strumento chiamato Log Analytics, fornibile, fruibile dal portale Azure, all'interno del quale noi possiamo andare a fare query all'interno del dato, in profondità, esploderlo come vogliamo, e da queste possiamo creare, non solo fare analisi, ma possiamo anche creare quelle che si chiamano visualizzazioni, quindi grafici, dashboard, eccetera, e possiamo anche creare delle query che servono poi per magari crearci degli alert. Quindi io posso creare una query che va ad analizzare se, per esempio, sono state delle failure nella mia applicazione e se questa query mi dà dei risultati, quindi vuol dire che sono state delle failure, magari con particolari filtri, eccetera, io posso creare un alert automaticamente da questa query che mi manda dei segnali o delle omiavvisa che qualche anomalia è successa. Queste query vengono create con un linguaggio chiamato Custo, Custo Query Language, che c'è un linguaggio SQL-like che ci permette di andare a fare analisi del dato di log e ne vedremo un esempio più tardi. Uno degli strumenti fondamentali di Azure Monitor, su cui focalizzeremo un po' l'attenzione nella parte di demo tra un attimo, è sicuramente Application Insights. Application Insights è uno strumento fornito da Azure Monitor che ci permette di andare a monitorare a 360 gradi un'applicazione, quindi availability, performance, utilizzo, come viene utilizzata. Application Insights sfrutta tutta la piattaforma di analisi del dato di Azure Monitor e da questa ci permette di estrarre informazioni in maniera facile, ci permette di fare analisi a 360 gradi dell'applicazione, quindi a vedere ogni aspetto dell'applicazione, direttamente con strumenti di alto livello. Chiaramente abbiamo parlato di tutta una serie di funzionalità di Azure Monitor che adesso andremo a vedere nel dettaglio, ma sicuramente la maggior parte di queste funzionalità richiedono l'accesso al portale Azure, il che vuol dire che dobbiamo accedere al portale Azure e andare a usare questi strumenti per fare le nostre analisi. Azure Monitor ci fornisce anche la possibilità di creare delle dashboard, quindi delle applicazioni come quella che vedete qua, grafiche, che permettono magari a Unity di andare a monitorare a 360 gradi una particolare applicazione, un set di applicazioni, quindi senza direttamente andare negli strumenti più di basso livello. Da queste dashboard noi possiamo andare poi a cliccare magari su un particolare aspetto dell'applicazione e andare a vedere il dato a livello di dettaglio. Chiaramente da qua capiamo sicuramente una possibile esigenza, cioè se io fossi un consulente o comunque un individuo che ha necessità di avere informazioni sulla telemetria di un'applicazione, però non ho, per policy aziendali o cose del genere, l'accesso al portale Azure, quindi al dietro le quinte della mia applicazione, come potrei essere informato di ciò che avviene all'interno della mia applicazione, ricevere magari statistiche sulla telemetria, su come viene utilizzata la mia applicazione, su che problemi ha avuto magari nell'ultima settimana, eccetera. Per questa cosa vedremo come possiamo andare a crearci dei servizi custom che vanno a eseguire magari delle interrogazioni all'interno della telemetria di Azure Monitor e ci forniscono i report direttamente, per esempio, all'interno della nostra casella di posta. Quindi io che non ho accesso a Azure fisicamente, perché la policy aziendale non me ne ha dato accesso, ho necessità di avere informazioni su una certa applicazione o su certi aspetti di un'applicazione, come posso avere questi dati? Lo vedremo nella parte pratica, diciamo, di demo che adesso andremo a vedere. Per andare a vedere, ho cercato l'obiettivo è quello di focalizzarsi direttamente nel pratico, quindi nel pratico vediamo, quello che vediamo è il seguente scenario. Abbiamo in Azure un'applicazione, immaginiamo la nostra applicazione aziendale, che è un portale aziendale di B2B. Quindi l'azienda ha un portale al quale possiamo alloggarci, al quale possiamo andare, per esempio, a vedere tutta una serie di articoli che la nostra azienda vende, divisi per famiglie, quindi un'applicazione web divisi per famiglie, possiamo andare a prendere uno di questi articoli, aggiungerlo alla nostra, andare a vedere nel dettaglio, quindi vedere il dettaglio dell'articolo e poi magari lo possiamo aggiungere a un carrello. Quindi l'idea è un'applicazione B2B a tutti gli effetti. Qui abbiamo il nostro carrello, al quale poi possiamo andare a vedere cosa abbiamo acquistato e confermare l'acquisto. Questa applicazione, adesso torno un attimo alla home, questa applicazione, se noi andiamo a vedere il dietro le quinte, quindi accedo al mio portale Azure, questa applicazione, lo vedete qua, è un'applicazione che gira su AppService, è un'applicazione web che gira su AppService, questo è l'URL della versione di produzione dell'applicazione e già AppService vedete che ci dà una serie di metriche native relative all'applicazione, quindi in tempo reale ci sta dicendo quanti dati sta consumando l'applicazione, quante richieste ha avuto l'applicazione nel periodo eccetera eccetera. Legato a questa applicazione noi abbiamo attivato Azure Monitor nativo e quindi abbiamo attivato un'istanza in particolar modo di un servizio che si chiama Application Insights che come vedete qua è abilitato, questo fa sì che semplicemente abilitandolo io ho tutta la telemetria relativa a questa applicazione che sta girando in Azure, nativamente viene raccolta dalla piattaforma e viene mandata a Azure Monitor senza che io abbia dovuto fare nulla, quindi tutta questa cosa ci arriva gratis dalla piattaforma Azure e la telemetria non è poca, lo vedremo adesso andandoci nel dettaglio, cioè tutto ciò che sta avvenendo dietro le quinte viene raccolto in automatico da Azure Monitor, salvato all'interno della piattaforma di dati di Azure Monitor e noi abbiamo degli strumenti per andare a interrogare questi dati, quindi se io vado su Application Insights e a questo punto accedo alla risorsa di Application Insights connessa alla mia applicazione web vediamo che io ho tutta una serie di strumenti, vediamo qui, per andare a monitorare cosa sta succedendo all'interno della mia applicazione, quindi per esempio dalla pagina principale io posso andare a vedere se con un intervallo di tempo precostituito default è l'ora, quali sono state le mie richieste fallite quando siamo avuti errori, quindi nella mia applicazione, qual è stato il mio response sign dell'applicazione, quindi sono dei momenti in cui la mia applicazione sta rispondendo male quali sono state le mie richieste, quindi qua vedete c'è stato un picco di richieste che sono quelle che ho fatto adesso quando ho cliccato i vari punti la availability della mia applicazione e così via e poi questa chiaramente è un overview real time mostrata in prima pagina ma io poi da qua posso andare a vedere altre cose cioè per esempio se io clicco su performance posso andare, accedo a un'area in cui Application Insights mi mostra i dati relativi alle performance della mia applicazione e il che da qua per esempio posso andare a vedere il numero delle operazioni che sono state fatte nel tempo la distribuzione del tempo delle mie operazioni e secondo me è molto interessante per chi dovevesse per esempio andare a fare analisi di come sta andando questa applicazione la parte qua in basso di dettaglio delle singole operazioni quindi io per esempio vedo che in questo intervallo di tempo, quindi le ultime 24 ore queste sono state tutte le chiamate alle mie pagine, ai miei metodi della mia applicazione quindi non so, 573 volte siamo andati sulla Index che è la pagina principale e la pagina principale ha risposto con un tempo medio di 13,5 mila secondi e così via, sono state fatte tutta una serie di altre operazioni per esempio vedo che non so, la funzione che mi permette di caricare un'immagine oppure di eliminare un prodotto dal carrello sono le due operazioni che in questo momento, in questo arco temporale hanno richiesto più tempo e quindi magari io qui, se dovessi fare l'ottimizzazione dell'applicazione potrei andare a vedere il codice perché magari posso capire se dovessi fare delle ottimizzazioni di performance potrei andare a capire che queste sono delle operazioni dove magari ottimizzando qualcosa posso guadagnare in performance Azure Monitor ci permette anche le cosiddette metriche live quindi Live Matrix, Azure Monitor si connette all'applicazione e ci fornisce in tempo reale quello che sta succedendo nella mia applicazione questo è un monitor in tempo reale dove se io inizio a andare sulla mia applicazione inizio a fare qualcosa vado sugli articoli da cucina poi switch sugli articoli di decorazione non lo so, apro il carrello e elimino per esempio un articolo dal carrello giusto per fare delle azioni e torno alla home se io vado a vedere le metriche voi vedete che stanno iniziando a muoversi quindi sta succedendo una serie di cose vedo gli eventi vedo le richieste di ingresso e uscita quindi ho un grafico live che mi mostra cosa sta succedendo all'interno della mia applicazione la mia applicazione in questo caso ha un back end quindi la mia applicazione è fatta da un front end che è l'applicazione web che vedete qua ma dietro le quinte cosa c'è? ci sono delle basi dati nel mio caso c'è un database Azure SQL che è il database all'interno del quale risiedono tutte le informazioni relative a questo sito quindi per esempio la grafica articoli il listino prezzi è tutto preso da Azure SQL e poi c'è una parte invece del carrello il carrello che essendo temporaneo è stato progettato utilizzando un database NoSQL quindi in questo caso un database Cosmos DB se io volessi andare a capire avere un overview a grandi linee dell'architettura della mia soluzione e come sta andando la mia soluzione una cosa interessante è l'application map perché l'application map ci permette di andare a vedere la nostra applicazione a livello globale quindi io per esempio qua vedo che la mia applicazione è fatta da questa è la mia applicazione deployata su App Service collegata a un database Azure SQL e collegata a un database NoSQL quindi un Cosmos DB vedo per esempio qua che sulla base delle attività che io ho fatto adesso quindi queste azioni che avete visto il tempo medio di risposta dal client verso la prima applicazione è stato di 148,5 millisecondi quindi la parte di connessione a SQL mi sta dicendo che ho un calo di performance rispetto al solito quindi ho delle query che stanno performando meno rispetto alla media delle esecuzioni precedenti quindi per esempio potrei andare a capire e a verificare e qua vedo la connessione al mio MongoDB per esempio questa vista è sicuramente interessante perché ci permette di avere un overview a 360 gradi dell'applicazione di come è costruita quindi non solo di metri che ma proprio se io avessi più servizi li vedo tutti in mappa e posso andare a capire se c'è un problema di dialogo tra un servizio e un altro se per caso ho dei decadimenti di performance tra un servizio e l'altro e così via quindi è interessante qui vedete io ho anche una seconda istanza dell'applicazione in staging che me la fa vedere che chiaramente non è in uso oltre a queste informazioni che sono informazioni diciamo di native una parte interessante di Azure Monitor è i logs anzi prima vi faccio scusatemi vi faccio vedere un'altra cosa io nella mia applicazione ho una funzione di caricamento che mi permette di caricare delle nuove foto se io carico una foto e scelgo una foto a caso insomma scelgo una l'applicazione tenta di caricare la foto e vai in errore si ottengo un error non capisco dico ma magari è un problema temporaneo riprovo riprovo a caricare una nuova foto ne prendo un'altra non lo so caricamento avviene e ho di nuovo un error quindi ho qualche problema all'interno della mia applicazione come posso fare a capire questa cosa perché ho questo problema Azure Monitor ci permette per esempio di andare a investigare le failure quindi direttamente ho un tab dedicato per andare a verificare se la mia applicazione ha avuto dell'exception nel mio caso vado a vedere e vedo che ho un'exception loggata quando chiamo il metodo post image quindi in questo caso ne ho due perché ho fatto due caricamenti delle immagini e ho due caricamenti delle immagini falliti dei due exception avvenuti in questo arco temporale queste due exception sono tutte dovute al metodo post image quindi io già qua selezionando la relativa exception sulla parte destra vedo che sono entrambe per esempio delle divide by zero exception io posso cliccare sulla exception e qua vedo che le due exception sono tutte delle operazioni che mi hanno detto divide by zero quindi c'è nel mio codice una divisione per zero che mi causa l'exception io qua posso direttamente da Azure Model io non ho il codice dell'applicazione sotto mano perché non l'ho sviluppato io ma io che sono un IT posso direttamente andare a investigare vedo il completo stack trace della mia applicazione e vedo che questo è quello che ha fatto la mia applicazione quindi a un certo punto sono andato sulla home ho caricato il carica articoli ho cliccato ho carica e viene chiamata un metodo della mia applicazione chiamata post image e ottengo un exception divide by zero e qua io ho il completo stack trace dell'exception quindi mi viene detto che il metodo che fallisce è questo qui l'exception è una divide by zero exception l'ambiente è quello di produzione e io qui potrei anche esportare questo e per esempio darlo al mio developer che a sua volta potrà andare a capire qual è il metodo verificare quel metodo lì se c'è una divide by zero fixare il codice e così via quindi io sono io che direttamente sono riuscito a fornire questa informazione direttamente da Azure Monitor chiaramente una delle parti più potenti secondo me di Azure Monitor è anche la parte di logs quindi sono andato troppo indietro scusatemi in Azure Monitor noi abbiamo anche la cosiddetta parte di logging quindi io posso andare in quest'area chiamata logs all'interno del quale io posso effettuare delle query all'interno della telemetria i logs di Azure Monitor solo è una una parte che è una sequel like all'interno del quale io posso effettuare delle query molto simili utilizzando il linguaggio custo query language che il QL e posso effettuare delle query molto simili a quelle che farei in un database sequel per esempio immaginiamo che io voglia andare ad analizzare le richieste che il mio sito ha avuto in un periodo temporale le ultime 24 ore se io volessi l'intero log delle richieste qua vedete che voi avete l'elenco delle chiamavole tabelle all'interno del quale Azure Monitor log i dati le request sono le richieste ricevute dall'applicazione quindi se io qui scrivesse request basta io avrei l'intero stack trace scusate l'intero logging delle richieste che la mia applicazione ha avuto nelle ultime 24 ore quindi il risultato brutale delle richieste che la mia applicazione ha avvenuto chiaramente così è un po' difficile immaginiamo che io abbia voglia magari di andare a verificare quali sono le richieste più lente del tempo voi vedete che qua ogni dato in questo caso le request è in formato record quindi con una serie di campi che sono gli attributi di questo campo quindi il nome della mia richiesta l'urlo della richiesta se è andata a buon fine o no il tempo di durata della richiesta vedo da dove arriva eccetera eccetera e là di fondo il browser non mi aiuta in fondo l'item count che è il numero della richiesta immaginiamo che io voglia estrarre per esempio le mie richieste ordinate per dal numero maggiore minore e per calcolare la durata media io potrei effettuare una query utilizzando azure monitor vado direttamente a prenderla per evitare di scriverla da zero poi ve la scrivo di questo genere questa query cosa fa? prende le richieste quindi tutto il log delle richieste e poi azure monitor che uso query language funziona in piping quindi vuol dire prendimi tutte le richieste poi fammi la somma del numero delle richieste quindi le raggruppo per numero delle richieste e per durata media la media della durata raggruppa per numero di operazione e ordinamele per request count descending il numero di richieste discendente se io lancio questa query scusatemi ho sbagliato è rosso ne ho selezionato il record se io eseguo questa query già ottengo un'analisi perché ottengo per ogni request dal numero ordinate ho le mie richieste ordinate per numero e per durata qui vedo per esempio che l'accesso all'home page è quello che è più frequentemente richiamato ha però una durata ridottissima 13,54 millisecondi quindi performa molto bene ma per esempio se io dovessi analizzare qua vedo che la funzione che carica le immagini oltre ad andare in errore ha 4 richieste ma guardate il tempo meglio di richiesta è molto alto quindi qui c'è sicuramente del codice che su cui io potrei lavorare per andare a ottimizzare a questa mia applicazione web la stessa cosa probabilmente non lo so probabilmente nella la funzione che inserisce l'articolo nel carrello questo è il tempo medio di esecuzione anche qua probabilmente ci potrebbero non potremmo fare delle ottimizzazioni quindi già qua io capisco una serie di cose quindi posso farmi le mie query come voglio andando a esplodere il dato come voglio un'altra delle cose carine di Azure monitor se io vi eseguo un'altra query un'altra delle cose carine dicevo è la possibilità da una query di avere risultato non solo in forma tabellare ma anche in forma grafica per esempio immaginiamo che io voglio avere una cancello questa voglio avere la timeline per esempio delle mie richieste quindi voglio capire nel tempo come sta caricando il mio sito come gli utenti stanno usando il mio sito quindi se ho periodi di picco o no io potrei eseguire una query di questo genere dove questa query mi analizza tutte le richieste nel in questo periodo temporale che gli do quindi magari mettiamo in questo caso l'ho messo nelle le ultime 24 ore mi fa la sommarizzazione della durata media me la divide in intervalli di 10 minuti e la distruzione render vuol dire me la fai vedere non in forma numerica ma io la voglio vedere come time chart il risultato di questa cosa continuo a selezionare il record scusatemi il risultato di questa cosa è che io ottengo un grafico la timeline delle mie richieste e quindi posso andare a capire se durante una giornata intera giornata per esempio o durante l'ultima settimana chiaramente dipende dal tempo lo mettete qua ho dei momenti di picco in cui la mia applicazione magari ha troppe richieste e quindi in quel caso lì magari dovrei scalare di più o meno per cui questa parte è sicuramente parecchio interessante come avete visto avete visto però cosa c'è qua io qui ho continuato ad andare a utilizzare il portale di Azure per andare a fare analisi quindi ho fatto analisi a 360 gradi della mia applicazione ma sto usando il portale Azure immaginiamo che io sia un consulente che quindi lavora direttamente col cliente quindi Tailwind Traders è il mio cliente io seguo direttamente Tailwind Traders ma io non sono il developer e non sono l'ufficio IT che ha accesso al portale Azure quindi io magari però ho l'accessità da consulente project manager del cliente da andare a potergli riferire o dargli delle metriche di come sta andando l'applicazione di che problemi ci sono stati in applicazione nell'ultima settimana o cose del genere come posso fare però se non posso accedere a tutte queste risorse perché Azure Monitor mi è impedito di utilizzarlo potremmo creare dei servizi che eseguono dell'analisi dei dati per me quindi l'analisi dei dati che voglio e mi restituiscono il dato direttamente per esempio nella casella di posta questa era un po' l'idea che ho avuto per questa demo e cosa possiamo fare questa cosa? uno secondo me dei servizi cloud serverless quindi che ci vengono in aiuto per questa cosa sono le logic apps in questo esempio esco e non salvo questa query in questo per questo scenario per esempio sono andato in logic apps gli logic apps sono dei servizi Azure che ci permettono di creare dei workflow e all'interno delle logic apps io ho creato un workflow chiamato con il nome della mia applicazione telemetry report questo workflow cosa fa? è un workflow che se vado nel designer logic app ha un designer esattamente simile a quello di power automate per chi lo conosce in cui io graficamente posso andare a disegnare la mia applicazione logic apps è interessante perché ci permette di avere dei connettori nativi con Azure Monitor e quindi io ho dei connettori nativi che abbiamo usato qua per poter andare a estrarre il dato da Azure Monitor e fare operazioni quindi io qui cosa ho creato? ho creato un workflow che gira una volta al giorno che usa questa azione chiamata run query in visualize result dove si connette a questa istanza di application insights esegue questa query in questo caso io volevo avere nella mia mailbox per ogni giorno le richieste che la mia applicazione web subisce in modo da sapere da consulente quali sono o come i miei utenti stanno usando l'applicazione se ci sono problemi quindi gli faccio eseguire questa query e gli dico che la voglio in formato html potrei avere anche un grafico ma io la voglio in questo caso in formato di tabella html poi voglio di più quindi vorrei di più io vorrei oltre ad averla in formato html quindi nella mia mail una tabella con il dato di questa query io vorrei anche avere un csv perché il dato della mia telemetria in formato csv mi può tornare utile per fare analisi quindi ho aggiunto un'altra action chiamata run query and list results prima era visualize questa è il list results che fa una cosa analoga cioè si connette all'istanza di application insights che volete esegue la query che volete il time range che indicate qua però questa azione cosa fa mi lista i risultati io una volta che ho il risultato sotto forma di record uso una action di logic apps chiamata create csv dove prendo l'output di questa action questo è l'output di questa action e gli dico di crearmi una tabella con le colonne in maniera automatica che vuol dire che le colonne vengono create con lo stesso nome dell'output e una volta che ho tutti questi risultati mando una mail in automatico all'amministratore per esempio o a me il consulente in cui creo due allegati uno è l'html e l'altro è il csv se io lancio questo questa logic apps quindi la eseguo il workflow parte e vivete qui che parte io poi posso andare a monitorare direttamente la sua esecuzione qua e vedere se è andato a buon fine o no e quello che ottengo se vi faccio vedere secondo la mia mailbox è arrivata la mail sulla mailbox quindi ve la devo spostare se io vi faccio vedere la mailbox cosa mi arriva mi arriva una mail tipo questa è quella che mi è stata inviata in cui il sistema mi dice il testo che voglio attache il vostro telemetry report e io qua cosa ho ho due attachment il primo è una tabella html e il secondo faccio direttamente accederci e il secondo è un file csv quindi nel primo ho il report in formato html adesso ve lo apro se la connessione mi aiuta ce la fa se no facciamo direttamente scaricarlo ok questo è il csv quindi delle mie richieste numero di richiesta tempo medio e gli altri dati che ho deciso di estrarre e qua invece ho lo stesso identico report in formato html quindi mi viene restituito dalla query e quindi io cosa ho fatto sono riuscito a direttamente senza accedere a Azure Monitor a fornire al mio amministratore di t piuttosto che ai miei consulenti piuttosto che ai diretti interessati un report su cosa sta avvenendo nella mia applicazione senza far sì che questi accedano a Azure Monitor o al portale Azure quindi la telemetria raggiunge direttamente gli interessati senza che questi debbano accedere fisicamente al portale Azure o debbano avere i permessi di accesso al portale Azure questo è molto importante secondo me in parecchi scenari di produzione dove l'ufficio IT magari del cliente vi chiede dei report mensili sull'applicazione piuttosto che il consulente di chi ha necessità di capire se ci sono degli errori il dettaglio di certi errori per cui questa diciamo una overview di cosa si può fare con Azure Monitor visto che il tempo sta cadendo giusto per come conclusione Azure Monitor è sicuramente una soluzione per andare a monitorare le vostre app cloud in produzione quindi raccomandate usarlo potete usarlo anche per le app on premise ricordatevelo Application Insights è il servizio di Azure Monitor che ci permette di andare a vedere all'interno dell'app all'interno del quale poi possiamo andare a fare operazioni di analisi dei dati in profondità Log Analytics è lo strumento che abbiamo visto che ci permette di andare a fare query sul nostro store dei log di Azure Monitor e esplodere il dato sia in formato grafico che in formato tabellare come vogliamo Logic Apps è un servizio interessante che possiamo usare se invece abbiamo necessità di creare dei workflow basati sulla telemetria quindi necessitati per esempio di andare a creare report basati sulla telemetria che devono essere inviati ai nostri utenti adesso ho fatto chiaramente l'esempio della mailbox ma immaginate di un report che debba essere magari inviato a un canale Teams tutti i giorni piuttosto che altri scenari Logic Apps è uno strumento assolutamente interessante per questo e Azure Monitor ci offre uno strumento di monitor completo per tutte le app che girano in cloud quindi se avete App Service Azure Monitor è direttamente integrato ad un App Service e vi permette il monitor inattivo dell'applicazione penso di essere stato nel tempo io ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa conferenza che avete seguito questa sessione spero di avervi dato una buona overview e di avervi dato anche gli spunti interessanti per come usare Azure Monitor grazie mille qui su YouTube non vedo domande quindi ti ringrazio e aspettiamo qualche minuto prima dell'inizio della prossima sessione grazie Stefano io ringrazio tutti buona continuazione e se ci sono domande avete i miei riferimenti nel caso per farmeli o link di notvitter o mail nessun problema intanto grazie a tutti va bene ok grazie grazie a tutti 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 grazie per ze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Item, and item is the node, the JSON node, that if you saw briefly, it was composed by the two properties, name and type, something like that. So I need to say name. Okay, this is the source, but even the sync part is a problem, because here, the sync part here are coded, all the click types, but I cannot pass the parameter from here. So now I'm making a trick that is not really a trick, it's really the best practice that you need to do, and I promote, I create a parameter that can be the file name, file name, I use here a parameter from outside, that is file name, and now from my pipeline, the parameter has been promoted during call, and I can say, hey, concat of, Item, dot name, and point, okay, good, so, let's see it in action. Now I'm expecting that it's listing the folder, discovering at runtime three types, it were 1 million, it will be 1 million for each loop. The nice thing is the for each loop is by default parallel, okay, so we have three parallel copy data activities, so if we have a million of files, it's not just sequential, you can have multiple data integration units that are working. And as you see, one is finished, one is in progress, one is finished, and it's producing this result into the aggregates folder, okay, I think I can wait a few seconds more, okay, let's see it again. Okay, it's still in action, well, don't know why, but okay, succeeded, so now we have these three types, good, so we see the data copy and the limits, so data copy is really fast and intuitive, but it's just an appender, so I expect it as just a, with the same file type, it can produce a different, a single item for that type, it cannot handle the schema drifting, for that we need to use the data flows, so it's something that we are going to use right now, okay, And after that, to drill down more into the details, we can use SparkPool, while those ones are not really consolidation alternatives, but we can use it as consolidation alternatives, because if you saw in the previous step that I wrote a query, select star from a folder into the data layer, we can use it, we can use the serverless engine to produce a consolidation that you can use in your third party service, but it's not really the best approach can be seen as a workaround, okay, so let's see in action, the data flows, so we can delete all the stuff, create a new data flow, So, well, we can also go there, and say create data flow from here, from this folder, that's okay, and let's go, so the source is mapped into that folder, I can import all the schema from that file, so now the underlying SparkEngine is reading those files to get all the columns, And to produce a single schema, and to produce a single schema that I can change or customize in the later steps, okay, I hope it's something, a matter of seconds, okay, that's, okay, good, it's a matter of a second, good, and but now I just need what I want to do right now, I want to aggregate all the stuff and take just the cost and the country columns of the three report types to aggregate them, So, I want to project or select just the column that I want, so I don't want this one, country, yes, count no, campaign no, cost, yes, good, click, no year, no month, no day, no sellout, no conversion, no epoch, country code, yes, because country code is the country field in the other report type, So it's country for clicks and compression, but as I remember, it's country code for impression. So I want to change the name here. And this is possible only in data flows and spark is not something that is possible with the data copy activities. After that, I want to aggregate I want to aggregate what I want to aggregate by the country, the cost, okay, and the cost I want to aggregate it adjusted some of the cost. Let's see it in the preview part. The preview part is possible because I previously enabled the data flow the bag that is starting under the who does spark pool for one hour, something like that to be faster into the bugging purposes. Okay, this is the bug of the platform, but trust me, I'm going to me that is really aggregating all the stuff. And as the final step, I can sync my result, I can put my results into SQL database. Okay, since this result is just an aggregation few lines, I can use them SQL database that can be take from the subscription. So it's data demos, demos database, I use the manager identity, entity to log into the database to log into the database. Let's see it's working. Yeah. And I say, hey, in the advertising schema, create the razor, the aggregates. Okay, recreated the table. Whoa, every time. And now that we have the data flow, we can put the data flow here saying data flow, let's debug it. And we can see here that we have some tables. Those are the tables that we that I previously pre create with some clicks conversion impression impression I'm expecting to see the new table coming in seconds. Okay, is the aggregates. This table has been creating a few seconds ago by the data flow. And as you can see, it is actually taking off the aggregates from every country from every report types. And so on. So this is very powerful. And so on. So this is very powerful. And it just is a no code technology. Okay. Good. After that, let's recap all the stuff we saw data copy just an appender we saw data flows really cool and easy to use. And now we can go to the spark pools with spark tables. Why? Because we discover that actually at the final point, it's not really easy to manage the all the data lake by yourself. So as far as I mentioned in this demonstration, I just put my files into my organized structure with custom partitioning and so on. But in real world, you can see that probably the better approach is to let someone else organize your parquet into the data lake and who can be this someone else can be spark. Okay. We can have spark tables. So let's take one of these. Let's say the parquet. No, no, no. I didn't want to download it. Okay. I just want to. Okay. Let's reuse another notebook to be faster. Okay. Let's reuse another notebook to be faster. Okay. And as it keeps moving into the warehouse, it's plugged into the warehouse. Yeah. That was not the relational warehouse, it's the data storage, the data lake. That is called a spark table. What is a spark table? It is a collection of parquet organized by spark, not me anymore, to better end the SQL that I want to perform on top of this table. Okay. So here we can have a question, why are you transforming your existing in parquet into another form or parquet well it would be a good question because the source in this case is parquet but actually you can think every source size you can imagine so sequel relational source you can use by spark to load from files from somewhere else okay to put the results into a parquet format in this case after this uh this code running we can go inside the data lake inside signups inside the warehouse folder and we can see the plane table with a parquet okay this is the internal structure it's not something that we need to manage by ourselves okay something that is managed by spark this is the interesting point okay so let's close this stuff let's close some stuff more to better organize here okay it uh um it's a success and now i can query with spark select top 10 star from default azure plane table oh there's no top sorry okay blame it 10 and i can try to insert into insert into this one okay values like what i need the country that can be it i need an account can be x even the campaign can be x the cost can be 100 100 and the clicks can be 1000 the year can be 20 22 6 and 24. let's run this one and this is a spark sequel so it's sequel on top of spark after under the hood spark created another parquet with the delta okay but if i say delta i'm not meaning a delta table because if we want for instance to update this stuff and say hey update this one set cost equals 999 where account equals x this actually doesn't work because as plain spark table is something that is not updatable okay so it's just appendable so a spark table is something that is append only to uh make it work we should create a delta table so if i say format delta down and we can say here delta and let's stay here again delta delta so let's run all the stuff is creating another new table in a slightly different different format okay here the format is uh well let's wait a few seconds more the format is a format based on parquet but with like a dictionary like a delta log that is a collection of json uh that handles the transaction support that handles the schema drifting that handles updates so if you well let's go to the notebook because it's taking too much 30 for a second it's not something meaningful okay we maybe take two seconds in this case quite a minute but it's not the real world the length of this operation okay let's just wait a few seconds more no okay running in progress i hope but it takes really few seconds more because we're running out of time okay and the delta format is always parquet with this new delta log and json itself is like uh like a log okay like a transaction log so think about an abstraction of the database on top of the data lake and the good thing is that is managed by spark so in this case it works uh it worked like before i insert that uh an row and now i updated a row so i'm expecting that under the hood there's uh three parquet one is the first import the second one is the insert and the third one is the update why because parquet is immutable okay so when i update a row i'm not really updating a row but i'm creating a new parquet with the new row and in the delta log there's the information that for that row i need to look into that park and not the old one and this is made by spark okay so if i uh if i select again all the stuff here where account equals x in the delta table i will see the only row with nine one one but if i read all the parquet here without the abstraction it is a delta format so just by reading all the parquets without this kind of abstraction by saying where account equals to x i will read the uh the row two times okay because delta is not uh tied to the physical storage but it's an abstraction that is connected that is connecting parquet with the delta logs okay good this is just a uh taste of this uh stuff but it's uh how we are evolving the data platform in the in this uh in this recent month okay so we started as i said with relational with schema less variation file storage data lake and now we are in the delta lake please pay attention to some details so if the source is changing a lot you can probably need to handle data drifting okay so data copy is not enough for you uh also think about the update ability so if uh you need an append only structure it's not really uh full of issues but if you every day have some updates to the old data this can be a huge effort in the data lake perspective because without a delta table you should go into the details of the parquet reading the parquet taking just the 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 lines you need to take and then rewrite a new parquet something really mad insane okay so i really suggested to go to the delta tables and that's all i thank you for listening attends the sponsor and i'm here for the comments the the question if you have some okay i read one of julio is asking where do i can configure the spark cluster where all the code is running it's specific when i'm creating a server blah blah okay so uh when i can configure the spark pool the spark pool is created here statically so you just create uh no 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 here okay okay i create a spark pool with uh size and the spark pool is automatically put in uh uh like in weight in a idle status that is not the price and not billable anymore if you are not using it okay um it is specified when i'm creating the synapse resource okay when i can i i i swear i can choose the pool if i have many okay during my step here oh no here okay okay and of course since the notebook you can have parameters you can have input parameters and you can reuse a notebook inside the pipeline itself so i can even say that this notebook that i created before the one is the action before the data flow for for instance hoping uh having answered you julio some other question i cannot read the other question and yeah me too it's okay 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 that's okay i thank you again very much for me here thank you rob okay that's good have a great conference ahead thank you bye bye thank you thank you thank you Grazie a tutti. 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 Benvenuti a questa sessione dopo il coffee break. passo la parola a Laura. Grazie a tutti. Laura puoi aprire il microfono. Grazie a tutti. 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 di lavorare sulla stessa piattaforma. Però per capire meglio quali siano effettivamente queste caratteristiche e poi come si è arrivati a questo tipo di esigenza, dobbiamo fare un piccolo viaggio nel tempo, piccolissimo, e ci portiamo alla fine degli anni 80, inizi degli anni 90, quando cosa è successo? L'era moderna ha visto succedere qualcosa all'interno dell'azienda, ovvero il proliferare delle applicazioni, per una serie di motivi, le applicazioni hanno cominciato a crescere in numerosità, per esempio il marketing si faceva la sua applicazione, i sales si facevano la loro applicazione e così via. Tutto questo ha creato un problema di integrità dei dati, ovvero qual è la versione corretta di quel dato? Prendiamo per esempio la classica entità cliente, ha ragione il marketing o hanno ragione le vendite? E il data warehouse ha risolto questo problema, non si è occupato soltanto di spostare i dati da una parte all'altra, quindi da database in un punto centralizzato, ma ha anche fornito una certa infrastruttura a supporto, per esempio la gestione dei metadati, dei dati, dei dati, la gestione magari del data lineage, quindi vedere come quel dato si è trasformato nel corso del tempo, quindi da che sistema è stato originato, che trasformazioni ha avuto, dov'è utilizzato, e poi anche per esempio gli ETL che trasportavano appunto i dati da una parte all'altra. I papà dei data warehouse sono due, sono Ralph Kimball e Bill Inmon, hanno approcciato il problema in modo diverso, Bill Inmon con un approccio top down, mentre Kimball con un approccio bottom up, però fondamentalmente il data warehouse è diventato quello che è la cosiddetta single source of truth, quindi l'unica verità all'interno dell'azienda. Verità che lavorava benissimo sui dati strutturati, quindi tabelle con relazioni, ed era lo strumento ideale per tutto quello che era la BI e SQL Analytics. Tutti contenti fino al primo decennio degli anni 2000 quando il mondo è cambiato, nel senso che si è verificata una cosiddetta tempesta perfetta dei dati, sono successe varie cose e la prima di tutte è sicuramente che i dati hanno visto una crescita esponenziale. Nel 2007 un tale signor Steve Jobs ha presentato l'iPhone, ora non è sicuramente soltanto colpa di Steve Jobs, ma il fatto di introdurre questo tipo di strumento ha fatto in modo che noi tutti al giorno d'oggi produciamo davvero tantissimi dati attraverso i nostri smartphone. Ovviamente non è soltanto questo, pensiamo ad esempio alla nascita di social network, quindi di tutti questi dati che ci passiamo quotidianamente, informazioni, relazioni tra noi e le pagine delle società, eccetera, eccetera, e poi anche ai device che comunicano appunto le telemetrie, quindi tutto il mondo dell'IoT e poi pensiamo anche a tutte le interazioni che facciamo con le app, con i siti web, eccetera, eccetera. Il problema è poi che i dati sono cresciuti e sono anche cambiati rispetto al formato tradizionale che era gestito benissimo dal Data Warehouse, quindi abbiamo per esempio dati semistrutturati, i famosi JSON delle telemetrie, ma non soltanto, anche il dato completamente non strutturato, penso del testo, quindi magari i post che facciamo, e poi ovviamente su cloud. Quindi questa è sicuramente la prima cosa che è successa, forse una delle più significative. Al contempo il costo dello storage si è abbassato, quindi tutta quella mole di dati poteva essere salvata a un costo relativamente basso. In più si è avuto parallelamente l'aumento della potenza computazionale. Voi sapete tutti, la legge di Gordon Moore dice che ogni 12-18 mesi il numero di transistor per CPU raddoppia e quindi c'è questa tendenza. Questa tendenza addirittura negli ultimi anni siamo andati oltre e quindi la potenza computazionale è aumentata di tantissimo. E poi c'è stata l'introduzione dell'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale non è nata in questi ultimi anni. I primi algoritmi e modelli di intelligenza artificiale risalgono a circa gli anni 50. Dopodiché c'è stato un periodo in cui si è assupita perché fondamentalmente mancavano due cose per allenare i modelli. Tanti dati e tanta potenza. Che sono appunto le due cose di cui abbiamo parlato adesso. Quindi diciamo che l'intelligenza artificiale in questi anni è diventata di nuovo in voga proprio per questi motivi. Perché si sono verificate le giuste condizioni. E poi il cloud. Non che non esistessero delle soluzioni per i big data prima appunto del cloud. Pensiamo ad esempio ad adup. Però il cloud ha introdotto lo sdoppiamento, la separazione tra la potenza computazionale e poi invece lo storage. Quindi che cosa è arrivato? È arrivato il data lake che era lo strumento perfetto per persistere i dati non soltanto strutturati ma come abbiamo visto anche di altre tipologie. E in più diveniva appunto il luogo principe per fare machine learning quindi per i data scientist. Però abbiamo avuto altri problemi nel senso un po' derivanti anche dall'approccio nei confronti del data lake. Nel senso che le aziende che cosa hanno fatto? Si sono tenuti magari il loro data warehouse e hanno aggiunto n data lake. E poi hanno anche pensato una cosa del tipo tanto il data lake mi costa poco, lo storage mi costa poco, comincio a buttarci dentro tutti i dati che ho, tanto prima o poi li lavorerò. Il che ha originato un effetto, il cosiddetto data swamp, ovvero abbiamo avuto delle paludi di dati. Anche perché questi dati non avevano la stessa consistenza del data warehouse e quindi si è reso necessario un'altra tipologia di architettura più avanzata che potesse far convivere il meglio di questi due mondi. Ed è ovviamente il data lake house. Che cosa si prende dal data lake, il data lake house? Allora si prende sicuramente il formato open, perché pensiamo appunto nel data warehouse magari aveva un formato chiuso, proprietario. Poi il fatto che possa gestire diverse tipologie di dati appunto come abbiamo visto, che l'accesso ai dati sia più semplice, più variegato, quindi non c'è soltanto SQL come modalità di accedere, ma posso utilizzare anche linguaggi, AR, Python e così via. E poi il fatto che possa essere scalato ad un costo relativamente basso. Anche ovviamente il data warehouse poteva essere scalato, però diventava particolarmente costoso. Dal data warehouse che cosa si prende invece da tale causa? Si prende tutto quello che è l'alta affidabilità del dato, quindi la qualità, perché comunque il data warehouse assicurava le transazioni di tipo ACID. Poi ci torniamo su questo punto. E poi tutto quello che riguarda la governance e la security, perché appunto nel data lake house posso definire delle stesse tipologie di permission molto granulari che posso fare col data warehouse, quindi arrivare per esempio a livello di riga o di colonna. E poi tutte ovviamente le performance, le alte performance che mi fa il data warehouse. Quindi è diventato appunto il meglio dei due mondi e fa convivere quelle che sono le esigenze della BI un po' più tradizionale e poi del machine learning. Ma come è stato possibile far questo? Perché in fondo il data lake house è un data lake evoluto. Ma è evoluto da che cosa? Dal delta lake, che è un layer di storage open source, che supporta, quindi aggiunge a Apache Spark e i big data workload, quelle che sono le ACID transaction. Non soltanto questo come vedete, però questa diciamo è forse la più significativa tra le caratteristiche. Ricordiamo cosa vuol dire ACID, è un acronimo che sta per atomicità, quindi tutta la transazione è valida se tutte le sue parti si sono verificate. la C sta per consistenza, quindi solo i dati validi, quindi mi mantiene l'integrità dei dati. La I isolamento, indipendenza delle transazioni, quindi transazioni sono una indipendente dall'altra. E la D sta per durabilità, quindi i dati non vengono mai cancellati e quindi mai persi. Quindi che il dato mi arrivi dal mio streaming o dal batch, arriva nel delta lake, quindi un livello in formato delta. Ci sono di solitamente tre layer, ciascuno rappresenta il livello di maturità del dato, quindi partiamo da un livello bronze, dove ci sono fondamentalmente i dati raw, che arrivano appunto dall'ingestion dei dati. E spesso vengono salvati a giuritura non in delta format, ma direttamente così come arrivano. Poi c'è uno strato invece un po' più raffinato, che è denominato appunto silver, dove io faccio tutte le operazioni, quelle che sono di polizia, mascheramento, comincio a individuare i PII, quindi tratto il dato appunto per garantire una buona qualità del dato. E poi l'ultimo strato, che è quello diciamo più elaborato, è quello dove faccio magari appunto delle aggregazioni, è il layer gold, che è quello che espongo poi all'analitica e al machine learning. Noi oggi vedremo l'implementazione su Azure, ovviamente, ma sappiate che comunque basta avere ovviamente un data lake. Abbiamo visto le transazioni e SIDMANO sono le sole feature che vengono abilitate con il data lake. Allora, innanzitutto abbiamo la possibilità appunto di scalare i metadati e gestire per esempio le partizioni, perché ricordiamo che noi trattiamo comunque file, e moltissimi file. Poi abbiamo la possibilità di andare indietro nel tempo, quindi fare time travel, portarci in un determinato punto, una determinata versione del dato, magari per necessità di audit, rollback, oppure per riprodurre una situazione in un dato momento. Il data lake è anche una community alle spalle open, dove appunto ci sono standard, protocolli, ed è un ambiente molto vivo, dove appunto si può anche cercare supporto e documentazione. Poi abbiamo visto che sia che parlo la lingua del batch e dello streaming, uso solo una semantica per trattare il dato, quindi nella stessa modalità. Abbiamo anche lo schema enforcement, quindi prevengo i dati che non sono nel formato corretto, tramite appunto uno schema definito, che può evolvere comunque nel tempo. E poi tutta una serie di log che mi permettono di fare audit sul mio dato, quindi capire cosa è successo in quel dato, nella vita di quel dato, momento per momento. E per ultimo, una serie di operazioni di data manipulation language, quindi non solo SQL, che mi permettono appunto di gestire i metadati, e comunque i dataset, con merge, update, delete, eccetera, eccetera. Questa è l'architettura alla quale mi sono ispirata appunto per la demo di oggi. Quindi, come vedete, sulla sinistra ci sono le fonti dati, che possono essere o cloud o on-prem. L'unica accortezza, oggi vediamo tutte le risorse cloud, però dato che comunque stiamo parlando, ci sarà data factory in questa soluzione, quindi se ho delle risorse on-prem, l'accortezza è quella di utilizzare safe-hosted integration runtime per appunto collegarsi ai dati on-prem. Dopodiché, i dati arrivano con l'ingesto nel data factory, che si occupa appunto di recuperarli dalla fonte dati, e si occupa anche dell'orchestration. Al data factory, sono passate anche quelle che sono le informazioni che si trovano appunto magari metadati che mi servono per trattare il dato, e quindi ho pensato a un Azure SQL. Nella nostra soluzione di oggi avremo uno solo SQL Azure, che avrà sia i dati, sia i metadati, e poi il key vault per tutti i secret che vengono, diciamo, utilizzati dai vari servizi. Sotto data factory, che abbiamo visto fare orchestration, quindi abbiamo Databricks. Perché? Perché il dato, vedremo che arriverà tramite appunto l'ingesto indirettamente di data factory nel bronze, ma per tutto quello che riguarda i passaggi dal bronze al silver e dal silver al gold, utilizzeremo dei notebook di Databricks, che poi possono essere inseriti in una pipeline, in un'attivity di una pipeline, e quindi poi eseguiti. Non vedremo la parte di visualizzazione del dato, però sappiate che Databricks mette a disposizione una componente che si chiama SQL Analytics, che permette appunto di creare e di esporre dei SQL endpoint, che poi saranno i punti dove si collegheranno, per esempio, Power BI per fare dashboarding e reporting. Ci possono essere delle varianti su questa, ovviamente, architettura. Ve ne propongo due, per esempio, due spunti. Uno può essere direttamente utilizzare i data factory anche per scrivere le tabelle di delta, perché come sync è uno dei formati che data factory mette a disposizione. E l'altra variante è sicuramente quella di coprire tutti questi singoli servizi con signups. Signups ha al suo interno una soluzione integrata e al suo interno tutti questi componenti, quindi la pipeline, la possibilità di lanciare dei notebook, e ovviamente anche il data lake. Bene. Allora, facciamo un rapido giro per vedere un po' tutto end to end il ciclo appunto di vita del dato all'interno di un data lake house. Allora, questo è il resource group che ho preparato per la demo di oggi. Vediamo velocemente le componenti. Quindi abbiamo parlato di database SQL. Ce l'ho spunto tutto su un SQL server dove c'è il database di Adventure Works e poi una tabella dei metadati che mi aiuta a capire quali sono e quando ho recuperato dal mio database i dati l'ultima volta. Quindi la tabella di Watermark dove ho il nome della tabella e semplicemente l'ultima acquisizione valida per quel dato. Poi abbiamo sicuramente il data lake. Ho creato tre container quindi per ciascun livello di maturità il bronze, il silver e il gold. Nel bronze ho già fatto l'importazione iniziale quindi qui ci sono tutte le mie tabelle e in particolare noi vedremo la tabella customer e quindi vedremo appunto che il dato qui in questo caso appunto è CSV perché è totalmente appunto il dato raw che mi arriva dalla fonte l'ho già diciamo inserito nel dato bronze. Poi abbiamo Databricks per i notebook e infine Data Factory che mi fa appunto l'orchestrazione. I Data Factory si appoggia su due linked service uno per il data lake e l'altro per il SQL database. La pipeline in questo caso è molto molto semplice ovviamente però contiene due attività. La prima è quella che va a recuperare le tabelle valide su cui deve fare l'ingestion dei dati quindi semplicemente andiamo a vedere appunto quali sono queste tabelle e per ognuna di queste tabelle c'è un'attività di foreach che va a fare alcune cose. Queste cose che cosa sono? Innanzitutto devo recuperare i famosi watermark ovvero i punti dove sono arrivata. Quindi recupererò dalla tabella quella che abbiamo visto prima l'ultimo watermark appunto per la tabella che sto trattando e poi andrò a prendermi invece il nuovo watermark nella data di ultima modifica come max di modified date della mia tabella in questione quindi avrò i due punti da quale partire e poi dove fare l'update. Una volta che ho queste due informazioni posso occuparmi appunto della copia dei dati quindi in questo caso vado a prendere appunto tutti gli elementi di quella tabella la cui modified date è maggiore appunto del watermark che ho recuperato dalla tabella. Il sync è sul data lake house e in particolare poi appunto va a creare in base al trigger time tutto quel percorso che abbiamo visto quindi anno, mese, giorno e anche ora. Come ultima cosa quindi quando questa è andata a buon fine vado ad aggiornare la tabella quindi con una store procedure dove vado a inserire il watermark per quella tabella e quindi qui diciamo è finito un po' il giro. Vediamo in azione allora qui andiamo a vedere la tabella customer dove fondamentalmente ho i miei dati iniziali non faccio altro che fare un update del customer, del primo customer andando a cambiare la salesperson mettendo me appunto come salesperson e a questo punto possiamo lanciare la nostra pipeline e vedere appunto come vengono create le cartelle all'interno del data lake. ok, qui adesso lui si recupera come prima cosa le tabelle e poi comincerà a fare l'ingestion tabella per tabella. Adesso la tabella quella interessante per noi la customer dovrebbe essere una delle prime quindi dovrebbe essere piuttosto veloce ok andiamo a vedere se è così quindi andiamo nel bronze sotto sales customer e a questo punto lui ha creato il nostro csv con solo le modifiche del caso quindi aspetto di vedere soltanto appunto il record da me modificato quindi con appunto il salesperson corretto ottimo quindi abbiamo i dati nel nostro layer bronze a questo punto andiamo un po' nel vivo e andiamo a chiamare appunto Databricks io ho suddiviso appunto la demo su due su due notebook poi vi indicherò il link al repository dove eventualmente appunto recuperarli partiamo ovviamente dal silver layer che ricordiamo è quel quel notebook che si occupa di fare appunto la trasformazione dal raw fino a un formato un po' più raffinato il che significa andare magari a uniformare il dato fare dei mascheramenti gestire eventuali duplicazioni e cose di questo tipo quindi questo tipo di operazioni la prima cosa che faccio è settare delle variabili che sono fondamentalmente il nome dello storage account non indico la chiave del data lake house perché allora dovrebbe arrivare comunque dal data factory che se lo va a prendere dal vault appunto interrogando il secret opportuno io l'ho configurata a livello di cluster quindi non c'è bisogno però in ogni caso ovviamente sicuramente serve la chiave per accedere al data lake e poi ho due cartelle che rappresentano i due momenti di ingestion adesso ci andiamo a prendere quella del bronze che ho appena fatto quindi 62414 62414 ok e quindi poi i riferimenti dei vari container per sapere appunto quali sono i layer dove andare a inserire i dati la prima cosa che devo fare è importare alcuni pacchetti quindi alcune librerie che mi servono per trattare i dati all'interno del mio notebook e in particolare ne ho due importanti che sono quella per le tabelle delta quindi per fare tutte le operazioni sulle delta table che è appunto delta.table e quelle relative a spark SQL perché appunto anche qui per fare manipolazione di dati a volte userò SQL quindi a questo punto importo appunto questi pacchetti poi altre librerie diciamo supporto appunto per le mie per le mie conversioni e quant'altro userò spesso il spark che è questo oggetto che rappresenta una sessione di spark sul quale poi posso accedere a tutti quei contesti appunto soprattutto al live che è il database di spark e quindi farò una serie di informazioni spark per esempio può essere utilizzato come oggetto proprio per settare magari la configurazione la configuration key del data lake poi mi servono alcune funzioni definisco alcune funzioni perché è così più rapido poi la data manipulation che farò più avanti in particolare qui faccio appunto cripto il dato poi posso magari sistemare l'email mettendo tutto in lowercase maschererò il dato del numero di telefono con delle regular expression e poi una funzione invece più generica che userò da diverse parti che semplicemente crea in memoria un data frame con un determinato schema il data frame vedetelo appunto con un oggetto in memoria che permette appunto di fare operazioni sui dati e funziona come una tabella tradizionale o come un foglio excel quindi a righe e colonne banalmente quindi creo queste mie funzioni che poi userò dopo bene andiamo a trattare la tabella di customer quindi la prima cosa che dobbiamo fare abbiamo parlato di scheme enforcement quindi devo dire come sono fatti i miei dati e qui ovviamente campo per campo vado a definire la tipologia appunto di dato che dovrò recuperare in modo da essere sicura che appunto non falliscano operazioni per dati non corretti a questo punto devo andare a recuperare le coordinate quindi dove sta il mio bronze layer dove sta il mio silver layer e quindi semplicemente vado appunto a definire due variabili che sono il bronze table path e il silver table path dove appunto inserisco queste informazioni e poi metto nello schema store lo schema che ho importato lì sopra bene adesso è tutto pronto per finalmente creare la nostra prima delta table allora che cosa fa questo codice allora questo codice sicuramente la prima volta va in errore perché lui fondamentalmente con appunto questo oggetto delta table va a recuperare tramite la sessione di spark da questo path l'oggetto delta table andrà in errore perché adesso il silver layer è completamente vuoto quindi lui cosa farà dropperà se esiste adesso vediamo dove la tabella nel database di spark e poi si creerà un data frame vuoto ma con quello schema e a questo punto sarà in grado di creare per la prima volta sul percorso che gli ho indicato come silver path la tabella con quel determinato nome e il tutto me lo metterà dentro questa variabile delta table quindi eseguo questo comando e fondamentalmente succedono due cose la prima è che mi creerà una tabella di tipo delta direttamente sul data lake e la seconda creerà associerà diciamo a questa tabella delta uno spazio nel live metastore ok andiamo a vedere se è così quindi andiamo nel nostro silver layer eccola qua sales customer e per adesso è vuota vedremo che mano a mano che andremo avanti lui creerà dei file di tipo parquet però c'è questa folder delta log che adesso ci raccontiamo che cos'è contemporaneamente che cosa è successo è stata creata questa tabella nel live live appunto è un database di spark che permette appunto di persistere del dato in questo caso il dato è soltanto per quanto riguarda i metadati nel live e poi appunto come un external table si trova sul data lake quindi qui vediamo lo schema e adesso ovviamente la tabella è vuota quindi non ci sono dati ritorniamo nel nostro silver layer e andiamo a vedere come è fatta la tabella di log allora abbiamo visto che la folder principale è vuota però c'è questa tabella di delta underscore log ed è qui che un po' viene la magia nel senso che vengono salvati una serie di json ciascuno per ogni commit che sono fondamentalmente le transazioni ogni 10 commit quindi ogni 10 file json viene creato un file di checkpoint in formato parquet quindi se io devo ricostruire se lui deve ricostruire il lato in un certo determinato momento nel tempo va a prendersi l'ultimo parquet a disposizione del checkpoint come se fosse uno snapshot e poi va ad aggiungere le transazioni a seconda del momento in cui io voglio il dato in questo caso lui riesce a riprodurlo in modo piuttosto veloce bene a questo punto ho la tabella devo andare a vedere che cosa c'è nel bronze nel bronze path quindi vado a prendermi sempre con la mia sessione di spark il csv direttamente dalla tabella sul bronze e qui appunto mi fa il display del data frame quindi in memoria adesso nella mia variabile ho questi dati e notiamo che per esempio l'assessive person è ancora pamela 0 bene adesso facciamo tutte quelle operazioni di pulizia che fanno passare il dato dal bronze al silver in questo caso faremo delle cose piuttosto semplici per esempio fisseremo come abbiamo visto l'indirizzo email portando tutto l'hourcase maschereremo il phone number rimuoveremo quelli che sono i campi di password che non ci interessano tutte queste operazioni appunto si riescono a fare col data frame che permette la data manipulation quindi anche qui al termine di queste operazioni avrò il mio dato trattato e lo riconosco perché per esempio qui l'indirizzo email è tutto il lowercase e per esempio l'indirizzo di phone il numero di telefono ma completamente mascherato bene adesso ce l'ho in memoria il dato quindi devo andarlo a mettere nella tabella precedentemente creata quindi che cosa faccio faccio un upsert la variabile delta table che abbiamo definito prima mi permette di fare il merge delle informazioni andando praticamente a raffrontare la tabella quella che avevamo creato prima con in realtà il data frame che abbiamo curato qualche secondo fa quindi do due alias delta table la chiamerò customer e il data frame la chiamerò customer new e vado a fare una join dai dati in questa join che cosa vado a testare ovviamente l'id e vado semplicemente a dire nel caso appunto non ci sia questa corrispondenza quindi vuol dire che non ho trovato quel customer all'interno della mia delta table allora vai a fare un insert altrimenti vai a fare un update ovviamente adesso è il primo inserimento e di conseguenza lui farà tutte insert ricominciamo a lanciarlo perché avrà un pochino di lavoro da fare al termine di questa operazione per ciascuno dei record che lui ho trovato nel bronze ovviamente creerà un record nella silver ok ha finito e andiamo a vedere se effettivamente è così il resto sto interrogando col sequel vedete il proprio comando sequel direttamente live di spark e vediamo i nostri dati e come potete notare ovviamente qui è panela ancora zero vediamo che cosa ha fatto all'interno del silver del silver layer ha creato un file parquet e come vedete qui è cresciuta diciamo ci sono un po' di transazioni in più bene adesso dobbiamo andare a gestire il dato che abbiamo cambiato quindi dobbiamo appunto recuperare quello il codice è praticamente il medesimo ovviamente qui sarebbe necessario un secondo giro di notebook però per comodità mi sono ricopiata appunto il codice e faccio le stesse cose che facevo prima quindi pulizia del dato dopodiché appunto update con upsert all'interno della mia tabella silver in questo caso adesso dato che comunque gli ho dato come riferimento la folder new quindi quella il secondo giro di data factory qui mi ritrovo soltanto il record appunto che è variato quindi la sales person vediamo un po' che cosa è successo a questa tabella customer che è su live nel corso di queste operazioni quindi andiamo sempre con un comando SQL a vedere quella che è la history di questa tabella e qui troveremo le tre versioni perché tre versioni la prima la zero è quella vedete l'operation è create table select quindi quando l'ho creata la uno è la prima ingestion e la versione due è quella che ho appena eseguito quindi l'update facciamo un pochettino di time travel quindi abbiamo detto che abbiamo anche la possibilità di andare indietro nel tempo con delta sempre con la nostra sessione spark andiamo appunto sul silver table path e andiamo a chiedergli la versione zero del dato la versione zero del dato ovviamente è quella della tabella vuota e quindi non ritorna risultati andiamo a vedere per esempio la 2 come vedete è l'ultima aggiornata quindi se vogliamo tornare a quella addirittura precedente basta che facciamo 1 recuperiamo la versione 1 e qui vedo pamela 0 ovviamente posso andarci non soltanto con il numero di versione ma con un time stamp che forse è un po' più significativo perché voglio magari andare a vedere in quel dato minuto secondo cosa c'era all'interno del mio database e questo posso farlo semplicemente cambiando l'option non chiedendo più la versione ma il time stamp as off e fornendogli il time stamp opportuno e quindi posso fare un po' di giri nel tempo adesso il nostro viaggio sulla tabella customer è finito per andare sul per farvi vedere appunto l'aggregazione sul gold magari lavoriamo invece su una tabella un po' più significativa dei customer che è quella degli ordini dove abbiamo ovviamente le due tabelle either e detail qui definisco gli schema e allo stesso modo come ho fatto sopra carico dal bronze faccio la pulizia e dopodiché appunto metto i dati nel server quindi qui creo la delta table faccio l'update del header e la stessa cosa poi faccio per il detail al termine di queste operazioni quindi nel mio silver layer mi aspetterò non più soltanto la tabella customer ma anche la 6 order detail e 6 header e anche qui vedete file perché con tutte le transazioni del caso ottimo andiamo a prendere il gold layer quindi il gold layer ricordiamo è quel layer di maturità del dato dove il dato è pronto per l'uso per analytics oppure per machine learning anche se in realtà il machine learning potrebbe andare anche sul silver layer in ogni caso volevo farvi vedere un qualche cosa di diverso e lavorare invece soltanto con spark sequel per farvi vedere prima abbiamo usato un po' di data frame in più adesso la creazione della tabella la creazione della tabella delta e poi l'inserimento lo facciamo invece con SQL e poi guardiamo invece come lavorano le partizioni anche qui la prima cosa è ovviamente quella di lanciare le nostre variabili attendiamo che sia concluso ci sta mettendo un po' tanto potremmo rilanciarlo quindi ho lanciato le mie ho eseguito le mie variabili sono più o meno le stesse di prima e anche qui mi importo tutto il necessario per lavorare abbiamo appunto abbiamo detto che lavoriamo sull'header sul detail degli order e quindi ci serve anche qui lo schema e a questo punto che cosa andiamo a fare andiamo a recuperare quelle che sono i dati che stanno nel silver layer quindi abbiamo lasciato perdere il bronze layer e andiamo a prendere i sessori del detail direttamente dal silver layer e la stessa cosa per la sales order header ok qui la particolarità è che a parte prendermi le tabelle dal layer silver vado a creare delle tabelle sempre nel live temporane con questo alias quindi avrò un refined order header come alias per questa view e un refined order detail per quest'altra view e così potrò lavorare con SQL e qui andiamo a creare come prima cosa appunto la tabella delta sul delta lake allora come vedete è totalmente SQL l'orders sarà il nome che verrà utilizzato nel live di Spark mentre la parolina appunto magica per attivare la tabella è using delta e poi devo infornire la location che in questo caso come potete vedere è appunto il gold l'altra cosa che ho aggiunto è la partizione perché potrei metterla o non metterla nel caso io decida di metterla posso fare uno o più colonne quindi separate dalla virgola quindi in questo caso mi ritroverò una partizione quindi una folder di primo livello con year una folder con month e una folder con il giorno quindi eseguiamo ecco qua quindi adesso se andiamo a prendere la nostra il nostro gold layer qui dentro troviamo gli order ed è ancora vuota perché appunto abbiamo creato soltanto la struttura e la tabella bene adesso siamo pronti per fare l'inserimento dei dati e come vedete facciamo una join quindi andiamo a prendere la tabella order la mettiamo in relazione con l'order detail per 6 folder id ci andiamo a prendere dei campi e calcoliamo quello che è l'anno il mese il giorno che poi ci serviranno per la partizione e dopodiché facciamo una banale insert dentro nella tabella che abbiamo precedentemente definito qui lui lavora e appunto inserisce 542 righe all'interno della tabella infatti se andiamo a chiamare la tabella con SQL ce li ritroviamo assolutamente dentro e qui adesso dovrebbero esserci anche esatto i dati e come vedete sono per partizione quindi per l'order month day e infine il parquet file ovviamente appunto essendo un data lake quindi con supporto gerarchico delle folder possiamo andare a recuperare e qui giusto un esempio con appunto il data frame soltanto gli ordini magari dell'anno 2008 in questo caso è poco significativo perché Adventure Works ha soltanto ordini dentro fino al 2008 però in ogni caso così con questa sintassi arrivando fino all'order year io recupero soltanto gli ordini del 2008 bene allora ovviamente i 40 minuti non sono tantissimi quindi abbiamo diciamo soltanto approcciato un po' il discorso del data e le cause però abbiamo capito magari quelle che sono le caratteristiche più importanti perché appunto è nato e come lavorare con con appunto le tabelle delta se volete saperne di più vi ho inserito nella presentazione alcuni link abbastanza importanti il primo è un libro scritto da un tale Inmon che è sempre lo stesso Inmon del Data Warehouse dove racconta appunto un po' di cose nel senso le abbiamo viste nella prima parte ma ovviamente tanto di più sul data le cause perché appunto è nato e cosa c'è dietro se non avete tempo o volete un inferinatore veloce ha scritto le stesse cose sul blog di Databricks e anche qui il secondo link e poi vi ho aggiunto quello che è il sito ufficiale della community del Delta Lake quindi là potrete vedere documentazione vedere appunto una serie di informazioni e supporto e l'ultimo link è quello al GitHub dove c'è appunto questa demo che dove ho messo passo passo appunto come tira su le varie componenti e soprattutto il codice dei notebook che abbiamo visto quindi questo è tutto spero di essere stata nei tempi non so se ci sono domande in ogni caso questo è il link ciao Laura no non vedo domande sulla sulla chat sarà molto molto esistiva e molto interessante mi sa che mi rubo il contenuto di questa sessione per un paio di cose certo come volentieri comunque se volete appunto approfondirla anche dopo questo è appunto il QR code per il mio profilo LinkedIn scrivetemi che così possiamo parlarne anche offline ok grazie ciao grazie ciao grazie 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 I work in the Fast Track for Azure team, and we help customers deploy their solutions to Azure more quickly, more effectively, and at scale. So we help de-risk that. Now I'm on Twitter. You can find me there. I tweet and share lots of cool and interesting things. I'm on LinkedIn. I occasionally blog, and all the samples and things I'm going to be talking about today are up on GitHub. So you can go and find them, and I'm going to be referring to that repo quite a bit. So you can use that and walk through. So there's a couple of things I want to talk about before we dive right into BICEP. What is infrastructure as code? What's the difference between declarative and imperative? And as we start talking about building for the cloud, what is Azure and ARM? I'll give you a couple of small differences between ARM templates and BICEP, and then we're just going to do lots of demos, lots of conversation. We got a lot to cover, but this should be fun. But this is the definition I always use with DevOps. I always like to start with it. Diamond Brown's quote, DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users. And I like to keep that in mind because it's about that stream of delivery. And it's not one tool that's usually a mindset, but let's dive in. So infrastructure as code. That is, you know, managing our infrastructure, our network, our VMs, our connections in a descriptive model. We're going to use BICEP files in this example, but this is going to let us check them in. We're going to be able to use repositories to share and store those. And we can have a Git hub workflow to review and merge our changes into production. And we'll talk about all that. So I said declarative. There's usually been two styles of infrastructure as code through time. We've got that imperative style, which maybe you're used to a series of scripts, a series of commands. Do this thing, do that thing, do this other thing. So you kind of have to know the state of the system, and you kind of have to manage your own dependencies. And so you might do a lot of polling. Hey, is that thing I asked for done yet? Can you make assumptions about where the system is? So you have a lot of responsibility put on yourself when you're dealing with imperative scripts. Error checking, handling, retry logic, dependencies, all that. With declarative, you pretty much just describe what you want in the system. You say, I want the thing, and you let the system figure out the current state. You let the system figure out where it needs to go and all of the steps that happen in between. Like a lot of times, it'll handle dependencies. It'll handle retries, all that stuff. Visualizing it a little different way. This is where under imperative, we might have to ask all these questions and create things if they don't exist. Where with declarative, we just define a whole bunch of resources that we want. And that's how BICEP is. BICEP is a declarative language. So why is declarative infrastructure as code super important? Well, it's a single source of truth. You just define what you want, and that's how the system should look. It's repeatable. It's testable. Because you're not writing all this extra logic and retry, and you're trying to coordinate resources, maybe through multiple deployments, it can decrease your provisioning time. It's also what we call item potent, and that's a term you hear a lot when you talk about infrastructure as code. It means you can apply it and run it over and over again with the exact same configuration and get the exact same result every time. And because it's checked in and because you can do pull requests and have a review process on it, you can see all the changes as they go into the system. It makes it super powerful. That means as we build out environments, we don't have unique servers or configurations. We can run it and reset configuration back to how we defined it. This will help reduce human error, and we can make things more secure. So there's a lot of reasons. But as we talk about building in the cloud, we have to talk about ARM. And ARM and Azure, ARM stands for Azure Resource Manager. This is the thing that is the control plane. And there's lots of ways to interact with the Azure control plane. Like you can go through the portal. The portal will hit REST APIs for ARM, and that will be how you can create resource groups or storage accounts or web apps. You can use PowerShell or the CLI. Those will interact with SDKs to talk to ARM. And the Azure Resource Manager has all of that authentication built in. So anytime we're doing stuff with BICEP, we're interacting with ARM, the Azure Resource Manager. Now, BICEP is going to be a file. It's going to be just a template file. I'm going to show it to you in a second. And this is different than how we've done things in the past. In the past, we had a JSON file called an ARM template. And this was a very big, long, wordy document. It was very verbose. It made editing them and creating them and working with them very difficult and slow. BICEP files, by comparison, are much cleaner. I know this is a little fuzzy. I'm going to have ARM templates up or BICEP files up. We're going to be zooming in and I'll make sure it's readable. But on the left, we're just defining a storage account. We have a couple of variables or parameters and we have a resource. On the right, we have a big, huge block of JSON that defines the exact same thing. It's just not as pretty, not as easy to work with. Now, another feature of BICEP, and we're going to go through all this in our demos, is we can leverage modules. So we can start having these reusable chunks of infrastructure defined that we might leverage across multiple solutions where we might have a reusable network module that we use in two different solutions. We might have, you know, an app module that we've customized and configured for our solution. Because we have modules, there's also options around outputs and, you know, parameters. So we can take the output of one module and pass some of those things into another module. Now, I know this might be confusing at first, but we're going to dive into it shortly so that it's all covered. And because we have templates that have values coming in, we can leverage parameters. We can pass those as a command line argument. We can pass them as files and we have control over that. So let's start playing around with BICEP some. I'm trying to find mine. There it is. So this is what a BICEP file looks like. Let's make it nice and big. And when we're dealing with BICEP, the Visual Studio Code actually has an incredible extension for BICEP. So if I look for BICEP, I've got this extension here that you can leverage with Visual Studio Code. And this will do syntax highlighting and validation and IntelliSense. It's really powerful. It's really great. Now, the other thing we're going to need when we're dealing with BICEP, now you can do it through PowerShell, but I'm a big fan of the AZ CLI. So with the CLI, you can build and deploy BICEP stuff locally, and that's what we're going to do. So there's a couple of keywords and important concepts as we build things in BICEP. And one of them is we're deploying Azure resources. So we're going to be deploying a resource. So one of the keywords we're going to see is resource. Now, you know, I'm building a storage account. This is just a friendly name. This is a symbolic name for me. The thing that's important is this part here. This is the type of resource through the resource provider. This is an Azure thing and the API version. So because I'm leveraging Visual Studio Code, I can do resource. You know, I want a storage account. Now, see, there's a huge list of things that, you know, IntelliSense is helping me fill out and provide. Those are all listed out in the Azure portal. I will show that momentarily. But, you know, I have the resource type. And then there's this thing here. This is the version. There's like an API version. ARM has, like for storage accounts, there are multiple API versions that are available going back many years. I usually recommend to people try to use the latest version of the API when possible. This is just the name for me to reference internally in my BICEP stuff. This is the actual name of the resource that we're going to be trying to create in Azure. You know, it requires a location. You know, where am I building this resource? And then there's some specific type of properties that are very resource dependent. So some resources have a SKU. You might not know all about the various SKUs of storage accounts, and that's okay. Sometimes the tooling will handle it for you, you know, so I can leverage the tooling to help. And all of those properties are published out through Microsoft. Like, kind is an important property for storage accounts. Now, this stuff, like I said, we can find out about it on the Azure portal. So if I look up BICEP storage account, we can go look at all of the different resources and see, hey, here's that storage account. Here's our BICEP template. If we want to see the equivalent JSON file, there it is for ARM. And we can see all of the properties. And we also have some additional information down here. If we care, that's a little tight because I'm zoomed in. So let me just zoom out once or twice. You can see if it's required. You can see a good description of every single property and additional parts about it. You most likely won't need all of this, but let's go back. And so one of the things I'm doing, because I'm going to use the AZCLI, is I'll need to log in. So this will open a browser. I can log into my account, and then that gets authenticated, and my tenants get set. I can, if I want to deploy from a command line a BICEP file, you know, make sure I'm in the right directory, I am. I need a resource group. So you can deploy BICEP files at any scope. There's lots of options. You can deploy it at a subscription or a management group level. You can deploy it as just a resource group level. So I can do a deployment group. So I'm going to do an AZ deployment. I'm going to do it to a group. I have a resource group already set. And then I'm going to say, I want to use a template file. I'm going to use my main BICEP. Oh, I forgot one word. I forgot one word. And that is, I want to create this deployment. Okay. So I'm getting a warning. You know, I'm warning, I'm getting a warning because I've hard-coded that I want to build this in ECUS. So I can get some of that IntelliSense through Visual Studio Code. And I'm going to start speeding up through some of these topics as we go, just because there's a lot to cover. But, yeah, so let's see here. So while that's running, let's go back up here. So this is that resource group I just pointed at. And if I take a look, there is a deployment running. And it looks like it just succeeded for me. So if I go back, I should see the resources pop up here momentarily. There it is. So I just made this storage account. And you can see some of the properties that get returned to me, the resource got created. Great. What if I want to create more than a storage account? What if I want to create multiple things? Well, we can do that, too. So let's say we want to do not only a storage account. Maybe I also want to do a web app. Now, web apps in Azure are built of two things. There's an app service plan, which you can see the resource type is server farm. So this is where my application is going to run. This is kind of like the server farm. And there's a SKU associated with it. There's different SKUs. There's also a location. And now I can make a website, an app service, a site, and I can give it a name. Now, some names are unique. So like the storage account here, that has to be globally unique. That name has to be unique across all of Azure. It's essentially like a DNS name. Now, my app service plan, that doesn't have to be unique across Azure. It doesn't even have to be unique across my subscriptions. It just needs to be unique inside my resource groups. You learn this stuff as you start building in the cloud more often. And you'll get errors occasionally. And you can also go and look at resources to figure that out. And then this also needs to be kind of unique across Azure. And now a couple of important cool things here. I'm using that app service plan. Now, this is my friendly symbolic name I'm using inside my bicep. So I'm creating a resource here. And then I'm depending on it a little bit later saying, hey, give me that ID and assign it to this property. So I can now reference and kind of create dependencies between two different resources and use them. I'm just going to hit up. So I've got in this file, in this folder, the same name. Still got the warnings. We're going to fix those in just a minute. But this is running. So this, I will go check on it shortly. That should be building this app service plan and this server farm up in the cloud. Well, let's start taking care of some of these hard-coded things. One of the options that we can start leveraging is we can parameterize our files. So what we can do is we can say at the top, I want a parameter. And this actually exposes a couple of cool concepts inside of bicep. One is we can set a parameter so we can ask for things. And then we can also set a default value for those values, those parameters. So what that means is if I don't tell it the location, it's going to default to East US. Now, if I took this out and tried running it, so let me go into that directory and we will run this. So right now I have a value for East US and I have a value for these two. But I don't have a default value for my environment. So we're going to talk about what's happening. But see, I gave it some choices. I said it's allowed. It doesn't ask me about location. And it's not asking me about my storage account's names. It's going to do some stuff, which we'll talk about. But because I said I needed an environment type parameter and I didn't give it one, it is asking me right now on the command prompt. And it actually, because of all the choices, it gives me a couple of options here. But let's look at some of what's happening in this file. Well, we're setting strings. That's easy. But then we've got this stuff over here. We got a dollar curly bracket. So we're going to do an expression inside of that. We're going to do some what's called string interpolation. It's going to combine this string, which we hard-coded, and whatever's in the inside of these curly braces. Now, the other thing that's kind of interesting is we've got this thing called unique string. And it's essentially like a function. What's nice about it is if you give it an input, like a seed value, like a time or a string, given that seed value, it'll always give you back out something repeatable. And so we're using our resource group ID as our seed value that has the subscription in it, that has the resource group name in it. And so if we moved this storage account to another subscription or resource group, we would get a different unique name. But if we start deploying it in the exact same resource group, we're going to keep getting the same string. So we can deploy this over and over again and get back that same unique string every time. So we can do expressions. We can do little functions. There is a reference on all of those. I will show you guys that. We also can do, this is called the tertiary operator, where you do the question mark and the colon. This is very common in JavaScript and like .NET. But we can do conditionals. Essentially, this is saying if the environment type is prod, do a globally redundant service. Otherwise, you know, else give it a local. If it's prod, make it a P2, a big premium app service. Otherwise, make it a lower, you know, free tier. So we've got all these parameters. And then we have a couple of local variables that we've built. And we just use them. So our storage account name, that was that parameter up above. We've just gone from saying, and I'll bring back up the previous version. We've gone from saying, hey, I want this string is my name to, hey, let's use this parameter as the name. Let's use this parameter as our SKU type. So we've got some flexibility now, and we can standardize all of our naming. We've got kind of a pattern going. And we can now pass in stuff to make it more reusable. And let's see if that deployed out there. I deployed it to the same place. And it did. So this was when I deployed my web app manually. And now this is where we've got that unique string going. And I haven't made any changes. So if I were to just run the exact same thing again, it should come back. Now, if I say non-prod, it should come back pretty quickly because the system already looks like it expects. We've already described the system. All right. So what if we need to take this a step further? We've got some resources around our storage account, and we've got some resources around our app and our app service plan. What are some things we might be able to do with that? Well, we could make modules. We could take all of this stuff and put it into a module. Let's take a look how that looks. So we've still got our strings, our parameters, our storage account. But here, so this is resource storage account. But here we're using a different word. We're using module. So we're saying, hey, there's a module that I'm going to call app service, and that module lives in this folder, in this file. So let's take a look real quick at that. So we've got app service, and this is a lot of the same stuff we saw before. We've got a location and a service name. We've got our prod environments, and we're using that to determine whether we're using the production size or the non-production size. So we've self-contained some of those dependencies around the app service, that the app service needs an app service plan. And all of that's kind of standardized, and we're outputting a service name. We're outputting the host name of that app service. So that's a property that once you spin up an app service, it has a URL. We're returning that from our module. And so notice we're not passing all the normal parameters to our module that we had before. We're passing only the ones that it needs and cares about. So it doesn't need storage account stuff because this is an isolated module. This just needs an app service name. It needs to know an environment type. That's how we've built it. And then we can get outputs. Just like we had outputs in our module, we can get outputs from our... Our main bicep file. So we've taken this and kind of made it modular. Go back up and look. We still have those. Let's refresh that. We don't have multiple copies of things with these unique strings. They're all the same. Well, let's take a look about how the modules work. A little bit more. And each time I'm deploying, by the way, what we've done is we're creating these deployments. So I can see these are the deployments that just happened. Those came from my template. And this is the compiled bicep. It gets compiled down in the JSON. But I can see those. So notice we had outputs. Don't output secrets. Don't output connection strings. I'll show you a way that we can do that more securely. But do not pass usernames and passwords through outputs because they will show up here in the deployment screen. And you can see those. So we've got our modules. If I do my deployment, I'm only referencing the main module again. Again, I'm not referencing any of the child modules. And I'm still getting those same type of questions. Now, this one was complaining because I was switching location. This I had up here is West 3 instead of East US. Like I said, in Azure, there's some restrictions. Some things you can rename. Many things you can't easily rename. And you have to do some deletes and destroys. I'm going to show you how to be aware of those things very shortly. And I'm trying to speed up a little bit. So let's say we've got parameters. Well, we have a lot of descriptions we can do about parameters. We can describe them. We can put allowed lists down, default values. We can specify min and max lengths of strings or of numbers. So we have a lot of control and information that we can share as we write our bicep modules to the people consuming them so that when they're asked what type of skew or what type of instance they need, they can understand what that's setting. So we can be descriptive and we can leverage those things. Now, here, we made an object as a parameter where we can have a number of properties that are associated with each other. And that's getting passed in here. And we're referencing those individual properties. So we can do a lot with parameters. We can also save them out as a parameters JSON file. Now, this is just like we would with an ARM template. And you can usually transform this pretty easily because this is a JSON file. So it's easy to reference like .serviceplan.value name and change things as need be. But we would invoke that on the command line just like I'm doing with the template file. We would invoke that by saying parameters file or parameters and giving it file here. Now, one thing I skipped over very quickly was when you're doing this and you're getting questions about your parameters, you don't always have to wait for that to happen. We can pass those right on the command line. So you can pass something directly like that without having to invoke it. So that's very easy to script and leverage in CICD pipelines. So I mentioned don't pass things around through outputs. Well, one thing you can do is you can, if you have to, have a key vault. Now, you can create a key vault. You could set some secrets if you had usernames and passwords that you had to pass along. And how would you reference that? Well, you can have them referenced inside your parameters. Like you can have a key vault reference to an individual secret. So you can give it the ID of your key vault, which is just the resource path to your key vault. And then it can look up securely the secrets from there. And we can reference that just like a normal value. I was trying to, yeah, as a secure string. So those will get passed in and consumed. I've actually got a diagram on that. So your bicep file and your parameter file are going to have a secret reference to key vault. And bicep and arm will read that secret to be able to deploy those things together. All right. So let us keep going quickly. So we can also do conditional deployments. We saw earlier we had a couple of ifs. Like if we want to, if we wanted to, if it was production, we were going to do one size. Or if we were not production, we would do another size. So we've got, maybe we're going to say something like auditing is enabled, you know, and we can have that be a value, true or false, depending upon what environment we're in. Well, you know, we're leveraging a couple of these secrets or a couple of these things here, but we're going to group together a name. We're going to take, make an account name based on a hard-coded string, based on our location that we have, based on the unique string of our resource group. And then there's a limitation of 24 characters. So this is why this has a take of 24 characters. So we're building out if auditing is enabled, true or false, and then we're building a storage account string. But where do we use that? Well, we use that right here. Maybe we want to do auditing. Well, only if auditing is enabled do we actually build out our storage account. If this is false, this doesn't happen. Like nothing there happens. And then down here also, we have a storage account. If it's production, we're going to leverage our storage account blob endpoint. But if it doesn't, if it's not prod, we're not going to do anything. Just like, hey, we need an access key. I'm not going to look up an access key. I'm not copying and pasting access keys. This is Azure securely telling Azure, hey, if it's production, get those keys from that storage account, how it's allowed connection strings, essentially access keys. Go find the primary access key and assign that. Otherwise, it's blank. So we've got some conditionality now. Are we in dev? Are we in prod? Let's do things based on that. So we can do modules. We can do parameters. What about loops where we want to make multiple, multiple networks, multiple resource groups? Well, we can define a race. They can be parameters. They can be variables. And what we can do is a very common syntax. We can do our for, our for loop, our for in. So we've got a bracket here. And then we say for and then a local friendly name in some sort of array. And we've got that colon and brace. And so now this is going to be looped over for each item in the array. And this is that local friendly name we were using. It could be anything we had defined. And it will create three different storage accounts. Now, they might fail because those names are taken. But it will try to create those three. But what if we don't have a list? We just want to make some number of resources. Well, we can use a function called range. So, hey, for I in, make some range, one to four, create a bunch of storage accounts in that range. We can do this looping over and over again. You know, we've got some parameters. We have an array of stuff. And for location in locations. Sorry, I keep scrolling like that. This time we have location comma I. And that's because this is going to show off the index. You know, it'll show zero, one, two, three. And so, we would say SQL Server 1, be that in West Europe. SQL Server 2, East US 2. So, that's how you can access an index of a loop as you're going through it. What if you have an array of objects? So, we can define out, hey, we have this whole configuration map. And notice there's no ending commas anywhere. We've got this configuration object. We have three of them. We can do some filtering on that. Maybe I only want to deploy for every SQL Server if the SQL Server is in production. So, we can filter out only the production objects. And so, it would loop through this and it would test. Yes, true. False, true. And so, you would have two of these that would execute inside this copy block here. So, we've got some really powerful options. We can do nested loops. So, you know, for each location, we make a VNet. We do the 0, 1, 2. We use the indexes. And then maybe we also make additional subnets. So, we can do nested loops inside of copy blocks. We can do multiple loops. There's a lot of options with looping. And we can deploy out things. So, we can make a module for a database. You know, we have all of our database stuff. And what we can do, and I'll just stick with this one. What we can do is we can just loop over that. So, we can consume our module and have multiple instances of it that we're just passing in maybe a different location every time in the same username and password. We have those options. So, we have a lot of building blocks. You know, sometimes there's things that already exist. So, as we're building out all sorts of resources, and you're going to see child resources and parent resources, things like, hey, I'm building a database account and a database. And these things are all related. And then this database has inside of it a container. We can do nested and child objects. But we can also work with existing objects. So, let's say there's a log analytics workspace. And we know the name of it. But we're not creating it in this bicep file. It's in a shared resource, or it's in another deployment or another resource group that is a shared source that we're going to consume, that we're not creating in this file. Maybe we just want to say, hey, there's an existing object out there. Existing object with this name. So, now we have a reference inside of our bicep for these existing objects. And we can access properties that exist on those existing objects. Because behind the scenes, what's going to happen is Azure is going to be able to go and look that up and set up that reference so that you can then, you know, access tags or additional properties on those that you don't know right now. And you can dynamically respond to them. Now, I mentioned you can create things and see changes. Well, you can do what if. What if is a really cool capability. I can, instead of doing my AZ group, deployment group create, you could do a what if. That is a command that will look at. It's essentially going through a deployment, but instead of creating things, it's going to show you what would happen. Is something going to be created? Is something going to be destroyed? Is something going to be modified? Are we maybe going to tag something in a different way or update? So in this case, if I ran it, it would use these different resources in my subscription and create these different things in these properties. So if I like what I see, I could do create. I can also do, there's an option here where you can, yeah, confirm with what if. So you run the what if before, and then you can acknowledge it. You can also say, hey, if there's absolutely no changes, if I know there's no changes. Like you, you have some options, proceed if no change. So you can review what's going to happen. And then you can say if you want to go forward or not. It gives you some cool options. Now I'm going to go ahead and create this. This is going to create some VNets. And I just want to show you, like I can change my cost center, update my team after this is done. And then maybe I want that to be one and that to be two. Let's see what would happen now if I did the what if on that. I should see some, a lot of little changes happening. So this is a great feature that you can leverage. Now another thing you can leverage is modules. You can do modules in ACR. I'm just going to wait for that to run. So, yep, here we go. It changed some properties. It was going to update some things. It was going to delete and create some stuff. So we have a lot of power. Maybe I want an ACR. So an Azure Container Registry. And the reason I might want to leverage an Azure Container Registry is I can publish my BICEP files, my BICEP modules out to an Azure Container Registry. I can share them and reference them inside of my modules just like I can share them and reference them. So we could have one pipeline or a place where we can publish modules out to ACR. This is just a module with properties and you would just publish it by referencing the file and referencing your ACR and maybe the name of the module or resource you want to use. Now, how would I reference it? I can reference it like that, the same way. I'm going to use a BICEP resource reference, I reference my ACR, and I'm going to use that module and call it. You can also kind of tweak your configuration so that you can have a little bit shorter, nicer names to reference things. And finally, just because we're getting short on time, we can have a sample app. And a lot of times what I do is I have my source code and my infrastructure as code side-by-side inside a repository. These usually live together. My application depends on a database or a Redis cache or an event grid or service bus or something like that. And so my application depends on infrastructure and my infrastructure exists for my application. They're coupled together. So I usually have them in the same resource together, the same repository. And, you know, maybe I'm just taking a web app name and I want to give it a SKU or, you know, what Linux version I'm running. I have some modules around my web app. And I can output the web app name. You know, at the time I run this, I might not know what my website name is. I might just build out my app service plan and build out my web app name. And I might not know what it is. It might be dynamic. So I like to output that. And the way I can consume that is in my GitHub workflows, in my GitHub actions. So I could have a workflow where I can build out my application. I'm going to check out my code. I'm going to build my .NET. I'm going to restore it. I'm going to build my source code and run my tests and publish my artifact and upload it. And now we can deploy it. You just need to do an Azure login. And there's an ARM deploy step. This is a deploy step for ARM. You know, we're leveraging our resources and we're just referencing our BICEP file. We're referencing the parameters just the same. And we can, out on Azure, build and deploy that. We've got, you know, we've got our actions and we can build our code and we can deploy our web app out into Azure. Now, I'm over time. I'm sorry about that for anyone who follows me. You're going to be right back. Thank you. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.